Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Rigenerarsi in Lui. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Rigenerarsi in Lui perché siamo chiamati a convertirci, a rinnegare le azioni negative, a risolgere a vita positiva, ma annullando tutte le sfere negative e cattive azioni che noi facciamo senza che ce ne accorgiamo neanche, perché a volte presi dall'egoismo pensiamo solo a noi stessi. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Rigenerarsi in Lui. Siamo chiamati a convertirci, a fare i passi giusti e sapienti. Siamo chiamati ad unirci all'Onnipotente coi toni dovuti. Siamo chiamati a rinnegare le vecchie e cattive azioni. Siamo chiamati per essere il meglio delle future generazioni. Siamo chiamati a risorgere, a portarci in maniera positiva. Siamo persone vive e forti, cariche di energia viva. Rigeneriamoci in Lui e con Lui saremo al sicuro. Risolleviamoci dai momenti bui. Siamo il seme del mondo, quello vivo. Grazie, spero la spedirito a tutti su Whatsapp. Arrivederci.